Laura Boninsegni, Fiorentina, io mi occupo di comunicazione e marketing da tanti anni, lunga esperienza milanese, ora sono tornata nella mia terra e continuo a fare il lavoro che ho sempre fatto. B-Original per me sicuramente non vuol dire sorprendere, perché è un terreno molto pericoloso. B-Original credo che voglia dire soprattutto entusiasmare, e noi sappiamo che ormai l'entusiasmo è una cosa talmente comunque individuale che bisogna veramente andare a capire che cosa c'è nella testa delle persone a cui noi poi rivolgiamo il nostro lavoro. Quindi il segreto secondo me per entusiasmare è prima di tutto avere entusiasmo noi per quello che andiamo a comunicare, per quello che raccontiamo. Beh la tecnologia è una sfida bellissima secondo me ed è anche una grossa opportunità, nel senso che con la tecnologia quello che finalmente siamo riusciti a fare è non essere più dei somministratori di messaggi, di contenuti, di proposte, ma possiamo finalmente andare a confrontarci e a sentire e a sapere le persone con cui noi abbiamo a che fare veramente chi sono, cosa vogliono, cosa pensano, come reagiscono e quindi è veramente una grossissima opportunità secondo me. Essere autentici oggi in pubblicità è indispensabile, è essenziale perché sappiamo che non si può più, ormai le persone sanno perfettamente quando lo siamo o non lo siamo, quindi è una condizione assolutamente irrinunciabile.